Se spunta un intellettuale che dice che Pasolini ha organizzato la sua morte, io da giornalista vi dico che è una notizia. In questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Per Paolo Pasolini questa mattina alla periferia di... Il mio pensiero immediato è stato finalmente avuto quello che ha voluto, insomma. Quella sera doveva accompagnare Pasolini all'appuntamento fissato con quelli che avrebbero avuto in mano le famose bobbine del film Salò. Apri gli occhi! Questo era il film che voleva andare oltre. Lui andava cercandosi dei guai per la verità, la sua vita spizzola. Sono delle persone di cultura che vanno giudicate dalla storia e dal tempo. Lei ha detto che invecchiando si diventa allegri. Perché? Perché si ha meno futuro e quindi meno speranze. E questo è un grande sollievo. Subtly communicated the drama of his conflict with the world. Il mismo Pasolini lo dice in su nota 34 bis di petrolio. Il diablo è la maschera di Dio. Il ha utilizzato sua propria morte come un montaggio, libero e arbitraire, del film di sua vita. Il montaggio è un po' come la morte. Finché un uomo non muore, non si sa bene chi sia il pietà. Pasolini era per l'ultimo. L'ultimo l'a ammazzato. Non. Allora ora, rimbobinez. Rimbobinez tutta l'oeuvre di Pasolini. Moi, io vi attendo qui.